Scommetto che hai paura di fare le schiariture perché hai già i capelli secchi, disidratati e magari temi di rovinarli ulteriormente, ma invece scopri come mai da noi la blonde experience è così. Come potete notare questa cliente ha i capelli rovinati, disidratati, molto secchi sulle lunghezze. Andremo a fare su di lei delle schiariture, addirittura un full blonde e cercheremo grazie ai nostri decoloranti progressivi e il binomio con i protettivi che mettiamo all'interno di realizzare delle schiariture davvero uniche e molto chiare ma senza rovinarli minimamente i capelli. Per prima cosa abbiamo affidato questa cliente a una delle nostre blonde specialist che realizzerà per lei un chatouche The Original Total Blonde, quindi molto chiaro ma con un'attenzione particolare sui tempi di posa dei decoloranti e, come dicevamo prima, sui decoloranti stessi. Dopo i tempi di posa delle schiariture andremo a risciacquare, fissare e ristrutturare i capelli con i nostri prodotti cheratinici e dopodiché andremo a realizzare uno styling adeguato sul suo stile. Successivamente il taglio e le onde curly waves valorizzeranno ulteriormente tutto il lavoro svolto fino ad adesso e ora godetevi questa fantastica blonde experience anche su capelli rovinati.